...quando cambieranno gli altri, i giorni, come se ricominciassimo sempre Natale, ma quando cambieremo noi adulti e diremo basta con queste cattive azioni che escono tutti i giorni sui giornali, senza parlare di quelle che non è storia, nella nostra vita quotidiana sono gli esempi del mio figlio, quando sto a casa e quando non ci sono, a te ci affidiamo perché vogliamo accogliere la tua sacra immagine, nell'aprile prossimo, adorno di fiori, tornati alle più belle virtù, nella vita cristiana e famiglia. Alla Madonna, come a una mamma che parte, oggi vogliamo promettere due cose, non mancare mai alla messa domenicale e dare il buon esempio in tutto ai propri figli e alle nostre famiglie. È una promessa che devono fare gli adulti, perché se adulti sono più responsabilità, davanti a Dio e davanti agli uomini. Saludiamo tutti! Saludiamo tutti! Saludiamo tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.